Una notizia che ha dell'incredibile quella condivisa da Lady Smalling, moglie del calciatore giallorosso. I due hanno visto gli UFO. Il racconto sembrerebbe quello di un film sugli extraterrestri ma, stando a quanto affermato dal calciatore e sua moglie, sarebbe la realtà. A condividere la notizia sui social è stata Lady Smalling, Sam, che ha raccontato quanto accaduto in una storia su Instagram. I dettagli sono molti e la donna ha voluto anche giustificare il racconto facendo alcune importanti precisazioni. Già famoso per la sua professione, probabilmente il difensore della Roma acquisterà ancora più fama dopo questa notizia. Il giovane trentenne, nato a Greenwich ma originario della Giamaica, si è sposato proprio in Italia nel giugno del 2017. Chris ha detto il suo sia Sam sul lago di Como ed attualmente i due sono in vacanza nel paese di origine del difensore. Proprio lì, marito e moglie, hanno avvistato qualcosa di strano ed è stata la donna a raccontarlo per filo e per segno sui social. Ecco com'è andata. Un lungo post. Quello condiviso dalla moglie del difensore, per raccontare quanto hanno vissuto i due. Sam ha tenuto a precisare che né lei, né il marito avevano assunto sostanze stupefacenti e che quanto hanno visto non è frutto della loro immaginazione. Io e Chris abbiamo visto un UFO incredibile la scorsa notte. È volato giù davanti a noi e poi si è girato ed è tornato in alto nel cielo dove è rimasto per un'ora. Ha raccontato la donna spiegando che il tutto era troppo piccolo per essere ripreso in video. Avremmo potuto riprenderlo con la telecamera quando stava volando da noi perché era chiaro da vedere, ma eravamo entrambi troppo sbalorditi per tirare fuori le nostre telecamere, ha poi proseguito Sam ancora sotto shock. Grazie a tutti.